Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su Mi piace e iscriviti al nostro canale. La partecipazione di Romina Carrisi, in dolce attesa e incinta di otto mesi, al programma televisivo Verissimo insieme al padre Albano, Carrisi è un evento che ha destato grande interesse. La 36enne, aspettando un maschietto frutto della sua relazione con Stefano Rastelli, regista esterno della RAI, ha condiviso con il pubblico le sue emozioni aspettative legate alla maternità imminente. Nonostante l'avvicinarsi del termine della gravidanza, Romina ammette sorprendentemente di non avere ancora preparato il corredo necessario per il parto. Questa ammissione ha suscitato curiosità e simpatia, rivelando un aspetto molto umano e genuino della sua esperienza. Durante la trasmissione, Albano Carrisi, visibilmente emozionato, si è unito alla figlia nel condividere i sentimenti di gioia e aspettativa. Albano ha espresso il suo stupore e realizzazione nel vedere Romina, che porta il secondo nome Yolanda in onore della nonna, avvicinarsi alla maternità. Ha poi ricordato con affetto la madre, descrivendola come una donna straordinaria, devota ai valori sani e tradizionali, e ha sottolineato l'importanza di trasmettere questi valori ai propri figli. Nel corso della discussione, è emerso che Romina aveva originariamente pianificato un viaggio in Australia con il compagno. Ma questo è stato sconsigliato da Albano e Romina Power a causa dei rischi per la gravidanza. Albano ha raccontato di un episodio in cui, durante una traversata in mare mosso, Romina ha rischiato un aborto. Un momento che ha sottolineato la serietà e la delicatezza della situazione. Questo aneddoto ha evidenziato ulteriormente l'importanza della famiglia e del supporto reciproco in momenti così cruciali. La futura mamma Romina si dice impaziente di incontrare il suo bambino, condividendo il desiderio comune di ogni madre di vedere e tenere tra le braccia il proprio figlio per la prima volta. La storia di Romina e Albano in Verissimo offre uno sguardo intimo e toccante sulla vita di una famiglia celebre, evidenziando le gioie, le sfide e i momenti significativi che condividono.